Certo ti risveglia in lui la paura di perderti e di essere dimenticato. In questo video voglio spiegarti come risvegliare in lui la paura di perderti e di essere dimenticato. Perché se tu riuscirai a risvegliare dentro di lui questa paura, la paura di perderti e la paura di essere dimenticato, otterrai dei risultati molto molto importanti. Questo perché nel momento in cui lui crederà di perderti e di essere dimenticato, inizierà a pensare di amarti, inizierà, questo è una legge diciamo fondamentale. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. E adesso veniamo al tema risveglia in lui la paura di perderti e di essere dimenticato. Se tu vuoi imparare a risvegliare in lui la paura di perderti e di essere dimenticato, devi iniziare a renderti conto, devi diventare consapevole di alcune cose fondamentali. In prima istanza devi tenere presente che non devi mai e poi mai e poi mai elemosinare l'amore e quindi mettendo in atto dei comportamenti bisognosi, perché nel momento in cui tu ti comporti in modo bisognoso è evidente che non puoi essere, diciamo, essere considerata una donna che può dimenticare. Anzi, assolutamente, otterrai esattamente l'effetto contrario. Se vuoi ottenere dei risultati devi assolutamente agire diversamente, non devi assolutamente fargli intendere, fargli capire che sei una donna che può tranquillamente dimenticare. Assolutamente. Devi amarti e rispettarti. Devi essere una donna piena di interessi, perché una donna piena di interessi è una donna interessante. Questo è fondamentale. Deve avere autostima, non devi buttarti, diciamo, in comportamenti bisognosi. Essere bisognoso di conferme ti renderà insignificante, ti renderà una donna inutile e non gli genererà la paura. Tieni presente che questa paura di perderti e di essere dimenticata è una paura che molte persone hanno dentro a livello di imprinting. Quindi devi imparare a tirare fuori queste paure dall'uomo, devi imparare a farle emergere, devi imparare a farle venire fuori, perché se tu impari a farle emergere, impari a farle venire fuori, automaticamente lui si comporterà di conseguenza, quindi ti percepirà come innamorata. Altra cosa che devi fare, altro punto fondamentale che devi fare è devi assolutamente evitare di, diciamo, di dargli l'esclusiva. Mai, 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 se tu lo vedi una volta a settimana, gli altri giorni vedi altri. Cioè, chi te ne fotte? Non dargli l'esclusiva, mai. A meno che non prenda degli impegni veramente seri, veramente importanti nei tuoi confronti, soltanto se prenderà degli impegni veramente seri, veramente importanti, allora, beh, puoi anche, diciamo, tenere presente il fatto che puoi dare l'esclusiva, che puoi dare, ma altrimenti no, devi tassativamente vedere altri uomini. E non stare a dire, ma io amo lui, non importa, se lo ami, se non lo ami, devi vedere altri uomini. Perché più energie gli darai, più tenderà a coinvolgersi nei tuoi confronti. Più energie gli darai, più tenderà ad essere, diciamo, bloccati in situazioni di questo genere. Quindi, assolutamente non devi dargli energie, non devi dargli l'esclusiva. Devi metterla all'ultimo posto delle tue priorità. Questo è fondamentale se tu vuoi coinvolgerlo, se tu vuoi far innamorare. Non devi dare, diciamo, situazioni, non devi dare energie a una persona che non se le merita. Assolutamente. Il tuo amore è importante e devi darlo solamente a chi se lo merita, a chi lo cerca. E questo è un qualcosa di fondamentale. L'amore non è fatto di lemosina, ma è fatto di scambi reciproci importanti. Quindi, altra cosa, devi necessariamente essere misteriosa. Non puoi stare lì a essere, diciamo, una donna sempre disponibile, sempre pronta. Assolutamente, vietato, tassativamente vietato. Devi essere una donna che se ne fotte, che non gli dice mai niente. Se gli dice qualcosa, sono cose non vere, racconta delle balle dal mattino alla sera. E, tra l'altro, è anche importante imparare a rifiutare, a negare gli sesso. E poi, questo, intanto, gli farà venire la paura di perderti. E come fare di venire la paura di essere dimenticata? Beh, è molto semplice. Evita, talvolta, di rispondere completamente ai suoi messaggi. Ma evita di farlo quando lui è, magari, ancora più coinvolto nei tuoi confronti. Quando avete passato, magari, una bella serata, quando percepisci che da parte sua ci potrebbe essere un coinvolgimento. Evita, assolutamente, di stare lì a, diciamo, a dargli corda. Questo è molto importante. Non raccontare nulla di te e racconta, eventualmente, cose contraddittorie. E poi, ripeto, altro punto veramente fondamentale è che devi diventare la regina indiscussa della tua vita. Devi diventare consapevole del tuo valore. Non elimina i pensieri negativi, del tipo Ah, sono zittella, se non trovo lui, non troverò nessun altro. Impara a non accontentarti più. E allora inizierai ad approcciare la vita, la vita relativa sentimentale, in modo molto diverso. Inizierai a dare indifferenza. Inizierai, e questo gli farà venire, attiverà la paura di poter essere dimenticato. Ovviamente non è vero, nessuno può dimenticare qualcuno, soltanto se siamo lobotomizzati. Ma questa è una paura molto antica, diciamo, in cui gli esseri umani sono presi. Quindi tu, ignorandolo, gli farai venire questa paura, cioè risveglierà in lui una paura già esistente. Concentrati su te stessa, dai consapevolezza al tuo valore, ricordati che se questa persona non farà nulla nei tuoi confronti, tu non farai nulla nei suoi. Questo è veramente importante. Il che significa che non devi accontentarti, e tra virgolette significa che devi sviluppare energia positiva nei tuoi confronti. Questo è la cosa importante. Quindi se tu farei questo, gli farai venire la paura di dimenticarti, gli farai venire la paura di perderti, e questo lo spingerà sempre di più, inevitabilmente, inesorabilmente, ad innamorarsi di te, a coinvolgersi con te. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, spero di sì, metti un like, condividilo con i tuoi amici, attiva la campanella, cioè iscriviti al canale, e poi attiva la campanella se non l'hai ancora fatto, così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, seguimi sulla pagina TikTok, e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, e abbonandoti potrai farmi delle domande precise, alle quali io risponderò nelle live per abbonati. Ciao a tutti!